segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sono le altre due le ipotesi sulle quali secondo me è più ragionevole indagare la seconda qual è beh la seconda è petrolio la seconda è il libro che per paolo stava scrivendo che è un libro che è uscito con tante pagine bianche è un libro nel quale per paolo si era infilato magari anche inconsapevolmente perché lui era l'uomo dell'io so ma io so da intellettuale non so da investigatore si era infilato nelle vicende dell'eni che nel corso di quegli anni erano vicende che grondavano appunto nero erano vicende di corruzione erano vicende di di lotte interne di legami con la politica così diciamo cerchiamo di fare inquadrare erano vicende che ruotavano intorno alla figura di eugenio cefis lui si possiamo considerare uno degli uomini neri della prima repubblica che aveva preso il posto di mattei il quale mattei lo aveva cacciato poco prima di morire e petrolio e petrolio raccontava questo certo questo insieme no ma te era molto l'altro incidente che come la morte di pasolini nessuno crede sia stato un così un determinato dal maltempo no ecco può darsi che per paolo si fosse infilato in quella storia lui aveva consultato un libro pubblicato da uno che si chiamava suster lega che che ricostruiva una parte delle vicende come pseudonimo probabilmente lui si era infilato in quella in quella storia senza senza avere bene contezza dei piedi che stava pestando e poi c'è la terza ipotesi la terza ipotesi è che i dei gruppi di neofascisti lo abbiano ucciso per le sue idee la seconda e la terza non necessariamente sono in contraddizione possono essere legate mentre per me è più difficile pensare che la prima e le altre può